Tu sai che vogliono fare santa mia madre? E tu quando l'hai saputo? A settembre credo. Dopo che me ne sono andato di casa. E allora? Qual è il rapporto? A settembre abbiamo iscritto a Leonardo all'ora di religione. Tu sei paranoico. Mi fanno compagnia? Ma tu conosci il cardinale? Io penso a Leonardo. Io non capisco. Può essere utile per il suo futuro avere una nonna santa. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.